Tra 300 metri, mantenersi a destra, poi svoltare a sinistra. Mantenersi a destra, poi svoltare a sinistra. Guardate l'uomo dei trasporti estremi, l'uomo dei trasporti estremi. Stiamo andando a Radio DJ. A mezzogiorno finisce? Sì. Alle 10 siamo lì. Se mi svegliavo prima, ti sveglio alle 5.10. E che te non l'hai messa la villa, non l'ho messa solo io. Non l'ho messa, no, ero tranquillo. Sì, mai, mai. Mai. Come? Mai. Madonna, non c'è nessun gusto, sembrava. Che ci sarà qualche milanese? Svoltare a sinistra. Procederemo 9, 150 metri, poi svoltare a destra. Chiaran Solic Seven. Svoltare a destra. Ciao